Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove per un incidente avvenuto al km 389 tra Chiusi e Valdichiana si segnalano 5 km di coda a tratto chiuso e traffico bloccato in direzione Bologna e rallentamenti per curiosi tra Monte San Savino e Chiusi verso Roma. Per la chiusura del tratto si sono formati anche 6 km di coda con traffico bloccato tra Fabro e Chiusi in direzione Bologna. Su quest'ultima tratta si è verificato anche un incidente al km 411, ancora verso Bologna, tratto chiuso per lavori tra il bivio con la variante di Valico-Baccheraia e Aglio. In A12 per lavori è chiusa l'entrata di Rosignano Marittimo in direzione Genova. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!